Cerchiamo di conquistare, ma prima di tutto cerchiamo di giocare bene come abbiamo fatto col Valle Aventino, di avere la giusta grinta, la giusta determinazione, il pressing andiamo ad aggredire, il primo che vedi che i due aggrediscono e gli altri quattro stanno fermi, a quante facce li cambia? Perché io non posso sprecare l'energia dei due che vanno a pressare e gli altri stanno a guardare. Concentrate, cerchiamo di fare risultato, cerchiamo di di cercare la vittoria perché non ammetto cali di tensione, cioè dopo due partite del genere mi aspetto una prestazione ancora migliore di quella dell'altra volta, ok? Su, andiamo? Ci siamo? Ci siamo? Ok? Per questo magico gruppo, I PIT URA! I PIT URA! Ciao!